Pensi che l'incomprensione sia uno dei maggiori problemi dell'uomo? Penso la carenza degli ascolto sia uno dei maggiori problemi dell'uomo, non l'incomprensione. Cioè tu non comprendi una persona perché di base non l'ascolti. Quindi se le persone ascoltassero e sapessero ascoltare, e torniamo alle prime cose di cui abbiamo parlato in questo flow, cioè imparate a capire come funziona la mente umana, come funziona la comunicazione, come funziona la comunicazione non verbale, come funziona la mappa della persona per capirla. È chiaro che se non la capisci, ma nella maggior parte dei casi non ci si capisce se stessi. Cioè l'incomprensione è verso se stessi. Se io non so me stesso come funziona, come posso sperare di capire qualcun altro? Diventa impossibile. Ed ecco lì ancora una volta che bisogna riuscire a capire se stessi. Tra l'altro, mentre gli altri possiamo capirli da come si muovono, da quello che parlano, eccetera, noi stessi per cominciare a capirci dovremmo fare silenzio. Il silenzio è una delle cose più difficili da fare. Sfido a chiunque di voi a stare, visto che adesso teoricamente lo potreste fare, 24 ore, 24 ore, senza alcun strumento, internet, televisione, radio, telefono, zero, in silenzio, in silenzio, 24 ore, da soli, in silenzio. Adesso potreste farlo. Ovviamente avreste un casino interiore della Madonna. A quel punto provate a fare silenzio dentro di voi. Cioè, ascoltate quello che vi viene e cercate di andare oltre. Cercate di mettere silenzio nella vostra testa, in modo tale che se c'è qualcosa di più profondo che voglia affiorare, potreste riuscire a sentire. Perché, ricordatevi, come ho detto tempo fa, come ho detto tempo fa, l'anima sussurra l'ego strilla. Quindi mettiamo a tacere l'ego e cerchiamo di ascoltare il sussurro dell'anima. Non è facile. Nella maggior parte dei casi, quando si stava fuori, il tempo si occupava e ci si affaccendava in mille cose inutili. Adesso che non ce l'avete più scuse, perché non lo fate? Qualcuno mi sta chiedendo come ammazzi il tempo. Ma perché lo deve ammazzare? Cioè, il tempo, se potessi, io lo duplicherei. Il tempo è il mio più grande amico e nemico, perché passa troppo velocemente. Noi passano le giornate in un attimo, altro che ammazzarlo. Io lo dovrei clonare, il tempo. Se fosse... io vorrei vivere una cosa tipo in time, dove il tempo si possa comprare. Cioè, sarei il più grande acquirente di tempo del mondo. Pagherei oro avere un anno in più di vita, o dieci anni in più, o cento anni in più. Wow! Poter tornare un anno indietro, poter avere una giornata di 40 ore invece che di 24. Cioè, è spettacolare. Ammazzare il tempo. Ho talmente tante cose interessanti da fare, come ad esempio oziare. Cioè, stare tre ore a guardare il tramonto, o l'alba, o il mare. Madonna! È un privilegio. Ma voglio fare anche tante altre cose. C'ho mille cose da studiare. C'ho mille progetti da fare. Certo, non ho fretta, non mi metto fretta. Però sono tutte cose che, se avessi più tempo, potrei farle. Potrei farle più velocemente. Cioè, potrei realizzarle prima. Ma allo stesso tempo, oggi come oggi, non mi privo delle altre cose. Quindi delle cose che veramente mi fanno star bene. Anche studiare mi fa star bene. Ma sto a studiare tutto il giorno. Anche guardare il mare, ma non sto a guardare tutto il giorno. Posso studiare davanti al mare, questo sì. Laura dice, dobbiamo stare soli, Daniele. E qualcuno dice, esatto, Zaya Dance, vi passano dieci giorni. E fatevi passano dieci giorni in silenzio. Fatelo, fatelo. Io ho un'amica che è passata di qua e che adesso, credo, stia facendo qualcosa del genere, di meditazione e cose varie. E che ne aveva bisogno. Cioè, persone che sono state in un mondo italiano, riempiti e rimpinguati di mille velocità di cose da fare, di impegni, di tram tram quotidiani, di persone, di maschere, eccetera, e a un certo punto si sono ritrovati a avere necessità di fare silenzio dentro se stessi. Perché poi il mondo continua a fare casino attorno a te. E quindi quando il mondo continua a fare casino attorno a te, se tu non riesci a trovare un equilibrio, a trovare un silenzio dentro di te, e tu devi andare a cercare, e in effetti in alcuni casi devi andarti a rinchiudere in quei luoghi, tipo vi passano a monasteri e cose varie, per staccare tutto e sparire. Ma è l'unica, perché davvero il mondo è... Cioè, non è facile fare silenzio, creare silenzio, sparire dal gruppo di amici, il gruppo di mamme, il gruppo di figli, il gruppo di lavoro. E che dugo io? Diecimila gruppi a qui dare conto. Ma perché dovete dar conto a tutta sta gente? Non è facile, però questo virus vi sta dando l'opportunità di fare questi esperimenti. Conoscete voi stessi, cioè prima di preoccuparvi di conoscere gli altri, prima di preoccuparvi di conoscere il vostro vicino di casa, preoccupatevi di conoscere voi stessi. Nella maggior parte dei casi non conoscete i vostri genitori, non conoscete i vostri figli, non conoscete la vostra testa, non conoscete tutta la gente che sta nella vostra testa. Prima di conoscere quelli fuori di voi, occupatevi di conoscere quelli dentro di voi. Sai, è una delle frasi ormai mitiche.